Subito, sono molto contento perché è una vittoria importante che può lasciare qualche leggerezza dentro le nostre anime e quindi sono molto contento di giocarla subito. Si va in campo, si va e spero che come gruppo squadra abbiamo capito l'importanza dell'attenzione e della concentrazione che dobbiamo avere. Questo periodo spero che sia servito per farci crescere come squadra perché poi è quello che conta. Nei momenti difficili ne puoi uscire anche vincitore se impari qualcosa da quello che la storia ti insegna. A noi ci ha insegnato che dobbiamo affrontare le partite con la massima concentrazione perché altrimenti non riusciamo a dare il 100%. Quindi la partita di domani viene subito e sono contento e spero che avremo le forze di riuscire a interpretarla con la giusta concentrazione perché è una partita difficile e servirà la massima concentrazione per rendere al 100%.